Hai mai pensato a come ti piacerebbe fare acquisti in futuro? A come sarebbe pagare se non ci fossero più le banconote? E nemmeno le carte di pagamento? E anche quelle di ultima generazione? E se la carta fosse proprio dentro al tuo smartphone? Non sarebbe comodo pagare con una semplice app? Come? Con uno smartphone con tecnologia NFC, una SIM NFC del tuo operatore con il servizio Wallet attivo, e una carta prepagata a Mediolanum Freedom Easy Card o un Bancomat Mediolanum Card. Hai tutto quello che ti serve per fare acquisti con un dito. Accedi all'applicazione Mobile Banking di Mediolanum. Seleziona la carta che vuoi virtualizzare. Clicca sul tasto Virtualizza carta e dopo aver completato la procedura, attendi l'SMS di conferma. Adesso puoi scaricare gratuitamente il Mediolanum Wallet e l'applicazione di pagamento dallo store e iniziare a pagare usando l'app o il comodo widget. Puoi pagare avvicinando lo smartphone a un POS entro 30 secondi e per importi sotto 25 euro non hai neanche bisogno di digitare il PIN. Facile, no? Fare la spesa, quella di tutti i giorni, o entrare in un negozio per comprare qualcosa che ti piace o ti serve, oggi è ancora più comodo e rapido. Grazie a Mediolanum Wallet ti basta avere in tasca il tuo smartphone. La tua libertà non ha più confini. Migliora la tua vita e dimenticati del portafoglio con Mediolanum Wallet.